Buonasera e benvenuta Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle, membro di questa commissione. Benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, grazie di aver accettato il nostro invito. Visco ha detto che Renzi effettivamente gli chiese informazioni nel 2014 sulla ipotesi di aggregazione di Banca Etruria, la banca nella quale il cui Consiglio di Amministrazione sedeva il padre del Ministro Boschi, con la Popolare di Vicenza, ma ha detto Visco, io non gli risposi. Quindi, l'allora Ministro Boschi, nei due incontri che ebbe con il Direttore Generale della Banca d'Italia, non fece richiesta particolare di interventi su Etruria, non effettuò alcune sollecitazioni di alcuna natura, ne chiese informazioni riservate. Allora, Ruocco, siete soddisfatti delle risposte del Governatore? Che cosa sospettate abbia fatto? Io credo che qualsiasi persona che ci stia ascoltando in questo momento capisce perfettamente che una Ministra che si reca facendo il giro delle sette chiese dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della Consob, Poi si fa una cena con consoli, con il padre, per parlare sempre delle vicende di banche etrurie, di fusioni con le banche del Veneto. Insomma, tutto questo già in sé sancisce un enorme conflitto di interesse da parte della Ministra nei confronti di una banca, appunto, che ricordiamo era gestita anche dal padre e che stava per fallire. Qualunque risparmiatore mi senta in questo momento può capire benissimo che non aveva le stesse opportunità di informazione, di contatti che in quel momento la Ministra sfruttava per salvare il padre che aveva gestito la banca. Questo è molto grave, tra l'altro tutto questo non ci era stato riferito in Parlamento perché la Ministra Boschi ha detto esattamente il contrario e sono verità che stanno uscendo dai lavori della Commissione d'inchiesta e quindi confermano i conflitti gravissimi di interesse e la necessità immediata di dimissioni. Sa che è curioso perché l'allora Presidente del Consiglio di Attuale, il segretario del PD Renzi, ha dato tutt'altra lettura delle parole del Governatore della Banca d'Italia. ha detto di ringraziare Visco perché nei confronti di Banca d'Italia ha sostenuto che non c'è stata alcuna insistenza, alcuna pressione, alcuna richiesta di violazione del segreto formulata da parte nostra, dice Renzi, e del resto essendosi svolte gli incontri in presenza di testimoni il fatto è facilmente verificabile. Le parole sono le stesse. Com'è che per voi quello che ha detto Visco è la prova di pressioni, di inopportune ingerenze e per Renzi invece è la prova che scagiona quel Governo? Perché noi ci mettiamo nei panni dei cittadini comuni che non hanno le opportunità che ha avuto Renzi, che non hanno le opportunità che ha avuto la Ministra Boschi. Ci sono delle sedi istituzionali dove si può interpellare il Governatore della Banca d'Italia che attraverso il Comitato Ministeriale per il Credito di Risparmio, il CCR, e quindi se le preoccupazioni fossero state ricondotte nell'alveo istituzionale e trasparente si poteva agire in quelle sedi e richiedere degli incontri specifici. Peraltro ieri il Ministro Paduan ha confermato di non saperne nulla di tutti questi incontri né tantomeno di avere dato delle deleghe a che qualcuno mettesse le mani nell'economia e nella finanza del Paese. Senta, voi nel vostro programma di Governo avete anche un'idea di riformare la vigilanza bancaria. Come? Beh, intanto deve essere realmente indipendente. Il fatto che comunque ci sia una forte commissione con il Governo ci preoccupa molto. Deve essere ricondotta all'alveo parlamentare, le figure chiave all'interno della vigilanza. Oltretutto ci deve essere, quindi la scelta deve avvenire con una partecipazione del Parlamento molto più attiva, con il controllo dei cittadini, l'inasprimento delle pene nei confronti di chi si macchia di reati bancari e l'impossibilità di vendere prodotti tossici al banco. Non come è avvenuto finora che i prodotti ad alto rischio sono finiti nelle tasche dei cittadini risparmiatori inconsapevoli. Non bisogna esporre il risparmio a tutto questo. Senta, visto che il vostro candidato premier è stato nelle ultime ore un po' ambiguo, io vorrei capire in vista delle prossime elezioni appunto, con quale programma economico vi presentate alle urne? Volete l'uscita dall'euro? Volete un referendum che non si può fare per Costituzione? Che cosa volete? Ma questa abiguità non c'è mai stata. Noi nei confronti dell'Europa siamo stati sempre chiarissimi. Questo tipo di Europa non premia, anzi deprime, le economie come quella italiana e in generale della fascia mediterranea. Ha tutto vantaggio delle economie forti, mitte le europee come appunto quella tedesca. Ora, è importantissimo ed anche urgente cambiare le regole contenute in trattati come fiscal compact, i quali in sostanza pongono sullo stesso livello spese improduttive ed investimenti produttivi e costringono il paese, l'Italia, a tagliarsi le gambe. Dall'altra parte si ha un'unica valuta e più rischi paesi diversi, nessuna condivisione dei rischi. Quindi questo che cosa comporta? Il fenomeno dello spread. E che cosa significa? Che se io sono un'impresa che opera in Italia, a sconto un tasso di interesse molto più elevato di un'impresa, la stessa impresa che opera in Germania. E questo a tendere desertifica l'economia italiana. Quindi nel vostro programma c'è o non c'è l'uscita dall'euro? C'è una revisione profonda delle regole europee, che implica una serie di passaggi dovuti in Europa per far sì che l'economia italiana possa essere rispettata ed abbia uno spazio importante. Non vogliamo che l'Europa ignori le esigenze degli italiani. Anche a livello del fenomeno migratorio, come dicevo, la condivisione dei rischi a livello finanziario, non è possibile costringere le imprese italiane a chiudere. Dopodiché, se tutto questo non dovesse accadere, cioè che se per un anno e mezzo di trattative l'Europa dovesse essere totalmente sorda ai problemi delle imprese italiane, delle famiglie italiane, della nostra cittadinanza, allora a quel punto si pensa ad un piano B che prevederebbe l'entrata in discussione del referendum consultivo sull'euro. Perché nel vostro programma... La posizione è molto chiara. Sì, nel vostro programma di sviluppo economico c'è al sesto punto recuperare la sovranità economica perduta anche con l'aiuto della politica monetaria che può soltanto significare poter agire su una propria moneta. Ma, come dicevo, al momento la distorsione delle valute c'è. Facevo l'esempio dello spread. Guardi, di fatto lo spread già crea... Si ha tanta paura delle valute diverse, ma in realtà lo spread già crea delle valute ombra. Perché, come dicevo, le ho fatto l'esempio del tasso di interesse che io devo pagare un rischio paese, quindi sul mio costo del finanziario più alto rispetto ad un altro che opera in un paese più forte. Uscendo dall'euro, secondo lei, questo rischio diminuisce? Non ho detto... Guardi, però non mi dica delle... Però, guardi, io la prego di essere onesto quando mi fa le domande. Io non ho detto che uscendo dall'euro si ottiene questo e non uscendo dall'euro non si ottiene questo. Non penso che lei sia così semplicistico in economia. Io ho detto un'altra cosa, che queste regole, se si vuole, si possono cambiare senza uscire dall'euro e senza costringere l'Italia ad intavolare piani B referendari. Senta, nel vostro programma c'è anche lo stop alla speculazione. Le posso chiedere che idea si è fatta dei bitcoin? Innanzitutto, nel nostro programma, dal punto di vista finanziario, c'è sicuramente una grande operazione trasparenza. Facevo l'esempio, prima ancora di arrivare ai bitcoin, facevo l'esempio dei titoli. Noi oggi come oggi entriamo in una banca e non siamo sicuri dei titoli che possiamo acquistare perché ci sono state delle manchevolezze enormi nelle autorità di vigilanza che hanno tolto delle informazioni importantissime come gli scenari probabilistici dai prospetti informativi. Quindi, prima ancora di arrivare ai bitcoin che rappresentano una realtà luce ed ombre, preoccupiamoci innanzitutto di ripristinare la fiducia, il senso di fiducia dei risparmiatori nel sistema finanziario. Senta, io, onorevole, la invito a restare, se può, se non deve rientrare in commissione a sentire Visco che va avanti. In realtà devo rientrare. In realtà deve rientrare, immaginavo. Allora la ringrazio.